Non ti preoccupavo aghio, c'è sto mare foo, c'è sto mare foo Oh io, tutto bene? Oh fra, tutto bene? Un po' troppo teso forse il braccio però Faccio questo video perché mi sono accorto che molto probabilmente non ho spiegato bene il senso per cui ho fatto le interviste che ci sono su questo canale Come avete potuto vedere ci sono varie interviste che trattano argomenti diversi Ho la musica, locali, ristoranti Il senso era quello di presentare una città e le persone che la vivono In questo caso dei miei amici che sono bene o male tutti di Saronno Comunque in zona o comunque sono persone che hanno vissuto Saronno Così come potrebbe essere qualsiasi altra città italiana E giustamente in questa città abbiamo trovato varie persone che nel tempo hanno coltivato passioni diverse Vuoi o non vuoi sono diventati bravi in quello che volevano fare Per esempio in un'intervista di Pocio E dove abbiamo parlato di locali, di come un ragazzino già alle scuole superiori può venire a contatto con questa realtà Guadagnare i primi soldi Mi viene in mente l'intervista di Ace Abbiamo trattato in maniera divertente un argomento che è il razzismo Che ormai è un argomento stra abusato ma visto da un'altra prospettiva C'è stata la musica con Waz, con 22 Simba, con Blake Insomma tanti argomenti differenti Così come tutte le altre interviste che avete visto su questo canale Ma forse abbiamo perso il punto Questo è un video molto breve per spiegare questo Rispondere alla domanda ma qual è il punto di tutte queste interviste Perché sono state fatte tutte queste interviste E la risposta è quella che vi ho appena dato Presentare una città e quello che ci si può trovare dentro O meglio presentare il prodotto di una città Il mio obiettivo non è quello di arrivare a fare interviste a personaggi famosi Ne è già pieno il web, la televisione, YouTube, su qualsiasi piattaforma Anzi l'obiettivo era appunto cercare di raccontare delle storie reali Persone come può essere chiunque di noi Persone che hanno una passione e che stanno cercando di realizzarla e di farla al meglio Per questo non credo che ci saranno molti video di interviste su questo canale O meglio sicuramente ce ne saranno Perché comunque è una cosa che mi piace fare Mi permette di conoscere meglio quelle persone che ho visto fare delle cose Però con un occhio un po' più esterno e che hanno fatto delle cose belle Che si possono raccontare Ma se penso ad un futuro vedo altre cose Altre interviste, altre persone, conoscere nuove storie Però credo che sarà anche molto altro Quindi niente, questo era un video breve Volevo solo dire questa cosa Cito il mio amico Tinder Johnson Non aspettatevi niente Ciao